Dunque intanto c'erano due compagnie, la Lai e l'Alitalia a quell'epoca. La Lai faceva il Nord America soprattutto e quindi diciamo si era creata la categoria dei piloti. Cioè quelli della Lai che facevano il Nord America erano l'elite, quelli dell'Alitalia che facevano il Sud America erano dei poveracci, no? Questa come impostazione perché quel Nord America, l'Atlantico, l'Inglese, l'Americano, tutte queste cose davano prestigio a questi piloti. Però le compagnie erano distinte, prima della fusione ognuno faceva le sue rotte. L'attività principale dell'Italia era il Sud Africa con lungo raggio e il Sud America. Ma per andare in Sud America, il viaggio era lungo partendo da Roma, aveva preso già durante la guerra, era stato identificato un gruppo di isole, l'isola del Sale dove c'era una pista adatta per gli aeroplani. E allora l'Italia faceva Roma, isola del Sale, una tratta, poi isola del Sale Caracas o isola del Sale Rio. Ma questa isola del Sale non è che era vicina, per andare ci bisognava sempre volare 10-12 ore, quindi non è che si poteva il pilota volare 24 ore. Quindi all'isola del Sale dovevano scendere per forza per riposare. E quindi si era creata una piccola comunità, una colonia, dove tra l'altro eravamo solo noi a occupare quell'isola. Per il resto erano gli isolani che erano tutti disponibili. Ma era molto divertente perché c'era un mare bellissimo, ci facevano dei bagni, il sole bruciava, scottava, bisognava stare attenti, ci facevano dei sonni, molto belli, anche se venivano sempre fuori tempo, perché poi quando si partiva, si partiva di notte, quindi con tutta una buona volontà uno di giorno non è che riuscisse poi a dormire molto, perché ci si impiegati in queste... Poi arriva al mare, ci vivivano i pesci, si cucinavano anche, quindi era tutta un'avventura, l'isola del Sale penso che sia rimasta per chi l'ha vissuto una tappa, un ricordo tutto particolare. Avevamo un edificio, nell'aeroporto non c'era niente, c'era solo la nostra casa dove noi andavamo, c'erano i due equipaggi che stavano fermi, uno in andata e l'altro di ritorno, per questo viaggio. E quindi era molto bello, era una vacanza, una vacanza gratuita fatta in un posto selvaggio, ma però piacevole perché era creato da noi, insomma.